Grazie Presidente, ma quest'aula deserta è la miglior riprova del grande interesse che l'Europa ha per i 5.000 morti e per le sorti dell'Italia. Guardate quanta gente che si sta preoccupando dell'invasione in corso. L'Australia con la campagna No Way dice che chiunque metta piede in Australia senza un documento lo fa per un quarto d'ora e poi viene allontanato. La Francia ha respinto mille clandestini nell'ultima settimana verso l'Italia. L'Austria respinge, l'Ungheria non li vuole, la Gran Bretagna non li vuole. Qualche genio a Bruxelles ha deciso che bisogna affondare i barconi prima che partano per danneggiare gli scafisti, meglio tardi che mai. Un consulente del governo libico ci ha avvisato, stanno arrivando i terroristi dell'Isis mascherati nei barconi. Stamattina un terrorista marocchino coinvolto nella strage del Museo di Tunisi è stato arrestato alle porte della Mia Milano. Siccome l'Europa non esiste, al di là delle chiacchiere e dei minuti di silenzio, faccio appello ai governi nazionali e al governo italiano perché difendano i confini, blocchino le partenze e sospendano Schengen prima che sia troppo tardi.